Buonasera, mi piace di essere qui e far emergere degli aspetti umani, quella sensibilità che spesso viene malicidializzata, sacrificata dai vittimi, dalle pensioni, io non sono distratta la generale che le pensioni all'acido, al nervosismo, all'affannarsi e qui invece alla sensibilità, ricuperiamo la possibilità e cambiiamo un valore formidabile, intanto della creatività umana e poi un valore educativo, anche di una capacità di definire i contributi attraverso un libro, attraverso un cartone di un bambino, portando a galla un'unica l'utilità della scrittura, della lettura, comunque dell'osservazione, dei messaggi che comunque sono nelle pieghe di queste pagine, che saranno nelle pieghe di fotogrammi che si vedranno, tanto più come la logica promozionale dello sport che devi trovare tutte le specchiali per poter arrivare la destinazione, ancora di più a livello economico, ad adolescenza, nei bambini, è proprio un discorso di linguaggio, di canali, di formati, che noi dobbiamo sempre di più riuscire a interpretare al finale per arrivare a quello obiettivo, quello di partire di partire, che poi si associa ad un altro obiettivo che secondo me è fondamentale, e non voglio raggiungere troppo sull'ortocinata, noi dobbiamo ricevere bene di più, siamo tutti troppo affidati, e vediamo, vediamo anche in un altro obiettivo quotidiano, quanto sia facile in un attimo sparire. Abbiamo avuto un senso di immortalità, che secondo me, anche l'occasione come queste, vi porta all'animazione delle scelte quotidiane, per concentrarci poi in un altro obiettivo, e quindi si andrà trovando centina, di aiutare il mio obiettivo in ogni caso. Amiamo le sport, in tutte le sue condizioni, anche aiutati ancora di più da quell'indirizzo costituzionale, che i chiamati un bravo, caro Luca, ancora una volta in un convegno che va l'abbiamo assistito, e nel quale per la prima volta, anche avrio anche un incontro con la società civile, il presidente di Consiglio Piccotti ha detto lo sport è più presente, è come dire, lo sport è parte della società, non è una organizzazione. Lo sport gode dei privilegi che merita, è una propria che fa difesa, che non va mal interpretata, che deve comunque puntare all'attività di risultare lo sport da infiltrazioni di interessi che in alcuni casi ci sono, ma che dobbiamo cercare di contenere, che dobbiamo promuovere perché sia sempre più efficace la sensazione sociale del sport, che non è soltanto quello che dicevo, tra il territorio, ma anche soprattutto più, anche attraverso il territorio, i successi, ma anche gli sconfitte di accrescere la cultura, la cultura sportiva, e fare in modo che anche la donna della scuola riesce a fare in modo che in produzione un libro possa formare un fotografo, un fotogramma possa comunque continuare a fare in modo che è molto più difficile costruire una balestra, quindi adesso non c'è una gerarchia, però il libro ce l'abbè, e ce ne abbiamo tante, e le immagini del sport sono tante, c'è un patrimonio inestimabile, e però teniamo chiuso nel cuocere, quello che stiamo cercando di fare, anche in collaborazione con i colleghi alla vita, con il sport di salute, ma con il corpo, con il città, è quello di entrare nella scuola ancora prima che attraverso l'orario di ginnastica, magari con l'onore di un filmato di gesta sportive, di grandi avventure struttivi, di grandi elementi struttivi, abbiamo più di 250.000 lavagne digitali nelle scuole, non abbiamo ancora, come stiamo facendo con il ministro dell'antuità, la capacità di diventare un'articolo, un'embo, qui nella lavagna possono essere una rete che si va tra una, o una piattaforma, o una piattaforma, e vedrete che succediamo, perché, perché quell'ora che può essere organizzata con un pallinzetto, che può essere organizzata con un pallinzetto dell'antriano di un film, c'è anche insieme a Raik, che è un amore insieme, un servizio pubblico, cioè un servizio pubblico sportivo, un servizio pubblico, un servizio pubblico educativo, formativo, che insieme stabiliscono l'impatto per arrivare a un altro obiettivo, o fare, o farne un modo di fare scuole. E la scuola è talmente importante perché nascono le coscienze, nascono le attitudini, si allevano, si sintetizzano, e se è vero che le 10.000 scuole non hanno una valestà, tutte le scuole non hanno una valestà, anzi, tutte le classiche hanno una valestà, e noi questo strumento dobbiamo utilizzare per me. Grazie.